salve a tutti sono alex il biondo benvenuti in un nuovo video dove oggi vi farò vedere come costruire un iphone 4 siete curiosi ma ok iniziamo ma prima di iniziare però voglio dire alcune cose mi raccomando ragazzi pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ok iniziato allora per prima cosa ci serve un telefono normale questo è un samsung ma può essere samsung una marca qualsiasi però basta che non è l'iphone 4 sennò grazie e allora prendete un telefono normale poi prendete la torcia perché dobbiamo fare la torcia per il telefono sennò al buio come si vede quindi con dello scotch lo dobbiamo lo dobbiamo attaccare un po difficile però ci riusciremo ora abbiamo la nostra torcia guardate è approvata la torcia ora ci serve una penna perché è una penna voi dite allora se volete whatsapp dovete scrivere il messaggio e come scrivete quindi la penna va bene anche la matita meglio la penna e la mettete qua tra il telefono e la torcia proprio qua ora l'attaccherò e anche la penna è stata attaccata ora io lo vorrei l'iphone 4 con una custodia ma giusto perché mi piace la custodia però a me non mi piace il colore di giallo solo questa e quindi dopo faremo una magia per farla trasformare il rosso e nero perché a me piace e l'attacchiamo dove sopra il telefono ovviamente attacchiamolo mamma mia così abbiamo la penna il telefono la la toccia e ora la custodia attacchiamola e anche la custodia attaccata ora infine ci vuole una lente di ingrandimento perché se voi dovete cercare il mio canale di youtube su youtube alexiglomba come cercate con la lente di ingrandimento ovviamente quindi attacchiamo anche questa e anche la lente di ingrandimento è fatta ora dite voi e questo è l'iphone 4 no ragazzi perché bisogna avere una busta magica e metterlo nella busta magica se ci riesco messa nella busta magica dobbiamo stringere forte e aspettare per un'ora ma dovete mettere molto caldo se no non funzionerà per un'ora mi raccomando stringiamo forte stringiamo forte ecco è passata un'ora esattamente e vediamo se ci siamo riusciti vediamo siete curiosi io sì voilà l'iphone 4 guardate con la custodia come l'avevo detta io rosso 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 e nera vediamo se funziona funziona vediamo la torcia perché sono curioso per la torcia vediamo vediamo la torcia funziona ora avete costruito il vostro iphone 4 dai ragazzi a parti gli scherzi questo è un video ironico se non l'avete capito giusto per farci qualche risata questa è la nostra costruzione questo è il nostro iphone è un video ironico giusto per farsi qualche risata ok ragazzi per questo video può finire qua vi ricordo pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ok devo andare alla prossima volta con alex il mio ciao